Non torniamo come prima. La pandemia, questo virus, ha creato una situazione terribile fatta di chiusure, di quaresime, di solitudini, in cui siamo stati insieme, accanto ai nostri parenti, ai nostri cari, quali sono però anche i nostri amici animali domestici. Quando passerà questa pandemia, con i suoi frutti avvelenati, come questa gravissima crisi economica, questa disattenzione nei loro confronti si potrebbe acuire. Allora bisogna fare in modo che questo non accada. Come? Facilitando l'accesso ai farmaci veterinari con un'IVA, per esempio, agevolata su cibo e cure, cosa che non è stata fino a qui. Sì, oppure sostenendo le fasce più deboli, che già vivono assieme a un cane o a un gatto. Oppure prevedendo, ecco, incentivi per chi ne adotterà uno dalla strada o da un rifugio. Tutto questo è ciò che chiede nel suo manifesto, che appunto si chiama, non torniamo come prima, la LAB. Io l'ho firmato questo manifesto, vi prego, fatelo anche voi, o perlomeno rifletteteci su, anche aiutandovi, andando sul sito della LAB, www.lab.it. Grazie.